Non serve la pazienza se hai gli alieni, finirò in un baleno e poi verranno tutti a ringraziarmi. Ora l'unica cosa di cui avete bisogno è l'aiuto di acqua spruzzo. Fermati, è un giardino roccioso, non ha bisogno di acqua. Schizzate via, ragazzoni, schizzate via! Mettila con la pioggia, Ben! Niente ringraziamenti al pacchetto completo dell'eroe. Anzi, fate pure. Accetto carte di sumo slammer, videogiochi... Ben, hai appena allagato tutto il giardino. Cosa? No, io... Ah, comunque l'acqua scivola e rabbia e poi abbiamo finito. Ora possiamo andare a mangiare? Muoio di fame. Prendiamo i waffle. No, il lavoro non è finito finché... Lo so, lo so, il lavoro non è finito, c'è ancora altro da fare. Non ho mai un attimo di pausa. Ah, cavoli, devo sempre scoppare. Cos'è successo? Ehi, il vostro giardino vuole mangiarmi! Ma dai, assolutamente... Cos'hai combinato? Niente! Forse le tue rocce hanno troppo pesato. La mia carriola! Beh, sì, no! Ok, sì, così non va. Ci penso io! Beh, per fortuna spruzzo anche dei raggi congelanti. Alla grande! Cosa? Ma è colpa tua! Preferisco l'aspetto positivo, Gwen. Ehi, nonno, hai visto come ho usato il potere del ghiaccio per salvare quella gente? Niente male, eh? Ehi, cos'era quello, Ben? Non so neanche da dove sbuchi quel potere, ma sono stato troppo forte! Ho fatto... Sì, niente male, Ben. Ehi, attenti! Arrivano altri guai! Trevate di fronte a vostri nuovi padroni abitanti della superficie! Re delle spire reclama vostro mondo per tutti i rettiloidi. Re delle spire? Ma quello è... È il tizio inquietante del ranch dei rettili! Radagia, sorella. Luce adesso è tutta per noi. Come puoi vedere, siamo arrivati in superficie. Ma dove costruire il nostro regno? Che ne pensi, sorella? Iniziamo la nostra conquista! Da lì! Ok, è vero. È più grave di quanto pensassi. Magari se ci avessi riflettuto prima. Ti ho già dato ragione, cavoli! Io vorrei tanto sapere perché si scarica sempre nei momenti peggiori. Sarebbe carico se non lo avessi usato perché eri impaziente durante la creazione di un giardino per allenare la pazienza. Non mi serve la pazienza! Oh, cavoli! Oh! Torri, torri! Tutto ok, ragazzi? Sì? Sì, bella presa, nonno. Dove hai imparato a guidare così? Oh, ci sono molte cose che non sapete di me. Guardate! Come fa a controllare quella creatura? Il re delle spire è solo un rettile, non è il dottor Animus. Dobbiamo scoprire il suo segreto. Beh, mentre perdi tempo a pensare, io troverò il suo punto debole in battaglia. No, Ben, non puoi buttarti senza attendere il momento giusto. Aspettiamo l'occasione adatta mentre cerchiamo di scoprire le sue debolezze. Certo, restiamo qui. Magari mentre cerchi una soluzione, lui non distrugge la città. Magari mentre cerchi una soluzione, lui non distrugge la città.